Gentili telespettatori, buona giornata, siamo nel programma 8 e mezzo di Lilli Gruber su La 7, ospite Massimo Cacciari, quindi televisione di sinistra, programma di sinistra, conduttrice di sinistra, ospite di sinistra, ma l'ospite di sinistra è un, possiamo dire, un pdino estremamente deluso non solo dal pd ma da tutta la sua area politica. Dice così che centrodestra e centrosinistra uniti più o meno sono alla pari, se la potrebbero giocare e questo in effetti è venuto fuori in tanti sondaggi, l'area di governo al 45-46%, l'opposizione messa insieme tutti, dal primo all'ultimo, all'ultimo nel 49%, quindi l'opposizione messa tutta insieme, cioè pd, 5 stelle, sinistra italiana, verdi, azioni, italia viva, arriverebbero ad avere 3-4 punti in più del centrodestra, però non sono uniti, mentre il centrodestra è unito da sempre, da 30 anni, questo centrosinistra non è unito per nulla, pd per conto suo, 5 stelle per conto suo e gli altri partiti per conto loro, compreso azione italia viva, quindi sulla carta mettendo insieme tutta la sinistra ha 4% in più, ma dice una cosa cacciari a Gruber, uniti più o meno sono alla pari, se la potrebbero giocare, visto dice che è matematicamente accertato che il centrosinistra diviso non potrà mai competere con questa destra-destra al potere, allora qual è il vero problema? Chiede Lillie Gruber a Massimo Cacciari, perché dice che il centrosinistra ha il 25%, il centrodestra ha il 45%, non c'è storia, non c'è competizione, sono troppo distante, e Cacciari dice che il centrodestra così com'è, assemblato, oggi dura più o meno dal 1994, da 30 anni, come vi dicevo prima io, bene o male è quella roba lì, Forza Italia, la Lega, la destra, si è sempre ritrovato nei momenti elettorali quando c'era da formare un governo, è l'eredità di Silvio Berlusconi, e questa è la vera eredità di Silvio Berlusconi, l'aver creato un centrodestra che vive nel tempo, e aggiunge Cacciari ci sono differenze tra di loro, hanno fatto il gioco delle parti, si sono divisi, ma è un'esperienza lunga e condivisa, cioè 30 anni che comunque si scontrano ma vanno avanti sempre uniti, a differenza di quello che accade dall'altra parte, e aggiunge ma cosa parliamo di centro-sinistra? Cosa centrano i 5 Stelle con il PD? Abbiamo dimenticato da dove nascono? Con la totale diversità culturale rispetto alla storia del Partito Democratico, per far maturare le convergenze occorre un lavoro di fondo, di confronto, congressi veri e propri, politici veri, elite, dirigenti capaci, ma scherziamo, mentre il centrodestra è 30 anni che fa una storia comune ed è per questo che sta in piedi, mentre il centrosinistra non sta in piedi. Io la penso diversamente però, sapete perché? Allora, lo disse un giorno Nicola Zingaretti che era il capo politico del PD, prima di letta c'era Nicola Zingaretti, che disse gli elettori dei 5 Stelle sono e gente del PD scontenta che se n'è andata e ha assolutamente ragione perché i 5 Stelle quando arrivarono al 35% dentro avevano di tutto, da sinistra a destra, passando per il centro, c'era di tutto dentro, era un partito veramente trasversale, raccoglieva tutti gli scontenti, di destra e di sinistra. Quando perse quel 35% se ne andarono tutti gli elettori di destra e rimasero solo quelli di sinistra scontenti. Quindi aveva assolutamente ragione Nicola Zingaretti quando diceva questi sono del PD, bisogna solo farli tornare indietro e spiegargli bene le cose come stanno. Quindi non è vero che non c'entrano niente 5 Stelle e PD. 5 Stelle e PD sono la stessa cosa, la stessa identica cosa. Naturalmente i 5 Stelle nascono per combattere il PD, nascevano come l'alternativa alla casta, poi e dentro c'erano anche gli scontenti del PD. Oggi sono rimasti solo gli scontenti del PD, gli altri se ne sono già andati. Pertanto c'entrano e come i 5 Stelle con il PD? E come se c'entrano? Sono lo stesso partito, solo che sono due partiti clone che vogliono primeggiare. La Schlein vuole essere lei la capa a sfidare la Meloni e Conte vuole essere lui lo sfidante di Meloni e così si daranno battaglia fino a qualche settimana prima delle elezioni politiche del 2027 in Italia per primeggiare come capo dell'opposizione. Poi se non ci riuscirà Conte si alleherà con chi sarà il capo politico del PD in quel momento e andranno probabilmente alle elezioni uniti. Perché separati non ha nessun senso. Pertanto è ovvio che si uniranno prima delle elezioni ma per poter competere con il centrodestra dovrebbero unirsi tutti. Italia Viva, Renzi, PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra Italiana, tutti uniti possono competere con il centrodestra che come dice Cacciari il centrodestra ha una storia trentennale di coalizione mentre il centrosinistra no. Anche perché il PD era già la somma di diversi partiti, il PD era già una coalizione, era già il centrosinistra. Poi è rinato fuori il partito comunista, c'è stata la scissione di Calenda, la scissione di Renzi, diciamo che i Verdi eccetera eccetera. Diciamo che il PD è un ex centrosinistra dal quale sono fuoriuscite nuovamente dalle persone che hanno fondato altri partiti. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.